Ciao ragazzi, oggi domenica 25 maggio ci troviamo a Busnago per la quindicesima tappa del Giro di Italia, la Valdengo Plan di Montecampione. È una tappa di 225 km e questa tappa nel 1998, tanto per fare un accenno storico, c'è una grande sfida tra Pantani e Tonkov, tutto si risolve a 3 km dall'arrivo a Montecampione. La classifica attuale vede in prima posizione Rigoberto Uran, vedremo quindi oggi come si comporterà Pozzo Vivo che è lì che si sta aggrappando per avvicinarsi alla Maglia Rosa. I ragazzi stanno allestendo come vedete, stanno cominciando ad allestire, dovrebbero passare tra un'oretta e voi il tempo non lo vedete. Cordino, questa è la bellissima chiesetta di Busnago, abbiamo anche un rivenditore di bici. Si sfotta l'occasione, si sfotta l'occasione. Ragazzi, allora facciamo un'intervista, abbiamo trovato un ragazzo che si scrive in un parco, un carattolo di parco, come ti chiami? Vincenzo. Vincenzo, allora siamo qui come ripeto a Busnago, allora tra un po' passerà il giro, quindi cosa pensi? Penso che sarebbe bella questa bella corsa e spero che venga il migliore, diciamo che in bocca al lupo a tutti quanti. Speriamo, speriamo, c'è il pozzato, tu te ne intendi ciclismo? No, 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 non mi interessa, non mi interessa proprio il ciclismo, però auguro a tutti i partecipanti un in bocca al lupo. Va bene, senti, faccio usci, va, va. Niente, se a tutti voi che mi guardate venite a trovarmi a Busnago, alla pasticceria Amari, non ve ne pentirete. Ok, va bene, ci vediamo alla prossima e ti ringrazio. Buon lavoro. Grazie. Ciao. La bandana rosa originale del giro di casa. Grazie. 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 Anche l'elicottero, però! Ragazzi, allora, il giro finisce qui, almeno per me, finisce qui a Busnako, come dicevo, sono vestito di rosa, vi mando un salutone e poi vi aggiornerò, la gente vi raccomanda sempre la descrizione, vi aggiornerò. Ciao, bacione, al prossimo video, ciao! Ciao ragazzi, bentornati, non un nuovo video di fitness, ma oggi siamo al Giro d'Italia, quindi ci troviamo a Busnago per vedere la tappa numero 15. Ciao, oggi il Giro d'Italia, 25 maggio, va... ... 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